Il mio cane non torna mai al richiamo. Tutte le volte che lo lascio libero passo d'ore e d'ore a richiamarlo e lui non torna. Tutte le volte che lo lascio libero mi tocca sempre agguantarlo e portarlo con me. Ecco, queste sono tutte le modalità non corrette per far sì che il cane torni al richiamo. Ciao, sono Marzio Sala, presidente e direttore della scuola per educatori cinofili di Affinity Dog ed oggi voglio fare questo video per spiegarti l'uso di uno strumento utile nell'esercizio del richiamo, e cioè la lunghina. A cosa serve la lunghina? La lunghina serve per dare delle distanze al cane e per poter passeggiare con tranquillità in ambienti aperti con la sicurezza che il cane non se ne vada. Chiaramente non è sufficiente per far sì che il cane impari a tornare al richiamo, ma bensì dobbiamo usarla per fargli prendere distanza, a quel punto ci accovacciamo e chiamiamo il nostro cane e quando ritorna lo premiamo. La lunghina non può essere sempre usata perché l'ordinanza Martini del 2012 prevede che il guinzaglio con il quale si porta in giro il cane non sia più lunga di un metro e venti. Quindi può essere usata in tutti gli ambienti esterni, quindi come i campi, le aree cani o altro, per insegnare al cane in quel contesto ben preciso a tornare al richiamo. Ma come si fa ad insegnare al cane a tornare al richiamo mediante l'uso di un guinzaglio lungo 6 metri? Perfetto, ora te lo spiego. Ti rechi tranquillamente nell'area cani, ovviamente quando c'è poca gente o meglio ancora nessuno, attacchi la lunghina al cane, permetti al cane di annusare in modo tale che la lunghezza del guinzaglio sia tutta estesa, a quel punto ti abbassi, ti accovacci, battendo le mani in maniera molto allegra richiami il tuo cane e il tuo cane tornerà. Quando è da te lo premi felicemente. Ecco, questo è lo corretto utilizzo della lunghina e serve per insegnare le prime basi del richiamo. Un altro esercizio che puoi fare con la lunghina è quello che io chiamo l'esercizio dell'elastico. Mi spiego meglio. Quando sei nell'area cani o comunque nei campi, attacchi la lunghina al cane, lasci correre il tuo cane e fai sì che la lunghina si estenda per tutta la sua lunghezza e ad un certo punto cominci a cambiare direzione, senza richiamare il cane però, e quando lui torna in maniera autonoma lo premi. Questo è l'esercizio dell'elastico e farà sì che il cane, ogni qualvolta tutti i giri, correrà da te felicemente e lì lo premierai. La lunghina è uno strumento di addestramento, di educazione del cane e serve per insegnare le prime basi del richiamo in tutta sicurezza. Con l'utilizzo della lunghina il richiamo del tuo cane ci impiegherà molto meno tempo a diventare fluido e veloce. Chiaramente dovrai esercitarti tutti i giorni affinché il richiamo del tuo cane diventi sempre più bello e sempre più espressivo. Spero di esserti stato utile e fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto. Se non l'hai ancora fatto, ti ricordo di iscriverti al nostro canale YouTube e di seguire i nostri corsi sul sito www.affinitydog.it Seguici anche sulla nostra pagina Facebook affinitydog.educazionecinofila e sul nostro profilo Instagram affinitydog.educazionecinofila